Signori e signori, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Vanilla Oggi andremo ad aggiustare un pochino il nostro rifugio Come potete vedere ho scambiato un pochino queste pietre qui Sembrano adesso delle pietre un po' più pietre E poi ho messo i cobblestone wall al posto delle colonne Che rendono decisamente meglio Giù ci sono degli altri, delle altre migliorie Che direi che non sono veramente male Fatemi sapere nei commenti se l'audio è migliorato Perché avrò sicuramente fatto un tipo di magheggio Come potete vedere qui è diverso rispetto a questa pavimentazione E come quella dell'atrio Perché questa dovrebbe essere la stanza del comandante in teoria Che poi andremo a fare, vediamo se riusciamo a farla in questa puntata L'atrio, qui ci sarà l'armeria Armeria e dormitori Stanza del comandante Poi qui il magazzino che io stavo finendo E poi questa è una stanza che in realtà è un po' inutile Credo che ci tornerà diciamo più utile un po' più avanti Adesso riprendiamoci un attimo queste chest Vediamo se riusciamo a prendere tutta questa roba qui Ok per ora le fornaci mettiamole qui Sento qualcuno, qualche brutta persona da queste parti Riprendiamoci un attimino questa chest qui Andiamola appoggiare qua dentro Anzi facciamo, no vabbè lasciamo così Anzi anzi questa qua la togliamo E la mettiamo qua Poi vedremo Allora aggiustiamo un pochino Quindi prendiamoci le stringhe Prendiamoci Gli stick E ci, anzi dobbiamo prendere anche La leather, la pelle E ci facciamo degli item frame Diciamo che ne facciamo un pochino Perfetto, ne ho fatti otto Dovrebbero probabilmente bastare Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Preciso, preciso Allora devo dire che è già più accettabile Un'altra cosa che ci serve in effetti E prendiamoci un po' di questo Potremmo anche utilizzare la birch Perché come avete visto negli altri episodi È più facile trovarla Facciamo gli stick E ci facciamo un po' di questi Ne facciamo tipo 15 per ora Ok, quindi Allora, innanzitutto Questo è un magazzino Perfetto C'è gente qua fuori Dica Armeria Dormitori Stanza del comandante Ok, quindi Armeria Prendiamo un po' di redstone Perché avevo avuto Una piccola idea Ditemi se vi piace Allora, facciamo delle torce di redstone Ok Ci facciamo un po' di letti Che non so bene quanti Ne dobbiamo fare Ma li dobbiamo fare Sono Ci Senti, facciamone Ah, non sono staccabili Dobbiamo metterci i letti Ecco qua Così Perché sono appunto I dormitori È un rifugio Diciamo nel giorni In Lords Mobile Nel rifugio ci vanno le truppe Quindi ho immaginato Che ci potesse essere Un dormitore in queste truppe In questo rifugio Ok, devo dire che così È abbastanza carino E in più ci mettiamo Il letto del comandante Che sono indeciso Se farlo a due O a tre Io immagino Questo Adesso faccio tutto In base alla mia immaginazione Che ci sia Diciamo Tipo un Un qualcosa Un cassetto Vicino al letto del comandante Magari Però tre Sono un po' esagerati Ci sia Anche se purtroppo Non è Simetrico Ci sia un cassetto Vicino al letto del comandante Dove lui poggia le sue cose Prima di andare a dormire E in effetti Non è brutta l'idea Poi 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 Abbiamo preso la legna Questa qui Vediamo le porte di Birch Che ci dicono Ah Ah no Questa è la versione ancora vecchia Quindi fa ancora le Wudendor Ok Tanto di guadagnato Quindi ce ne serviranno Un po' In effetti Ne facciamo tre Poi mettiamo un'altra qua E ne mettiamo un'altra qua Ok In realtà ne potremmo mettere anche un'altra nel magazzino Sì E la chiudiamo Ok Adesso è già un po' Ah 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 Adesso perché ho fatto le torci di redstone? Perché la luce che arriva deve essere leggera Cioè Ci deve essere un po' di luce Ma Deve essere Per lo più Una luce leggera Purtroppo Dalla stanza del comandante Arriva una luce Quindi io proporrei di fare una roba del genere Spero che voi vediate E così è veramente carino Devo dire che è veramente carino Come effetto Qui in realtà Ci potremmo mettere Tipo Tipo i nomi Dei personaggi Di Lords Mobile Ok Ho terminato Di mettere i nomi Praticamente ho fatto così Chiaramente So di aver messo i nomi degli eroi Ma nel rifugio si Va un eroe solamente E poi ci vanno anche i militari Diciamo La milizia Però ho preferito mettere il nome degli eroi Quindi Wesley È il titolo Quindi custode d'onore Sudario Torcidemone Icarus Corvo Notturno Shane Cavaliere Fatale Felicia Prima Donna Chandra Corvo Nero Alice Dama delle Nevi Anderson Saggio di Venti Senza farlo a posto ho messo i maschi da un lato E le femmine dall'altro Più Anderson Però Vabbè Non fa niente Però l'effetto notte è veramente bellissimo Questa è una cosa che mi piace tanto Un'altra cosa che vorrei fare È quella di abbellire Con Delle Con dei quadri Tipo Questo Sì Volendo Praticamente ho messo questo qui Che c'è un uomo Due uomini che combattono E ci starebbe bene Sopra Tipo una storiella Che poi Se avete un'idea Su qual tipo di storia mettere Beh Sono contento Sarei contento di ascoltarle Magari La più bella la possiamo scrivere là sopra Se Non mi viene niente La metterò io tranquillamente Qui C'era un buchino da tappare Vediamo se Ah ok Non è male Non è male È molto bello Devo dire che è abbastanza carino Bisognerebbe adesso Aggiustare un po' Qui dentro Purtroppo non so quanto è venuto Lungo il video Quindi Io Vi saluto E vi ringrazio Di essere rimasti qui In mia compagnia Vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Alle pagine Che troverete Se ci saranno Ma probabilmente sì Le pagine che troverete in descrizione Se il video vi è piaciuto Lasciate anche un mi piace E se non siete iscritti Iscrivetevi Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 ciao